Musica Oh, un ci credo niente? Cosa hai da? Vengo io a chiare il telefono, smarrito. Ma erai perso? Chi perso? Mi l'ha rubato, ma. Uff. Mi l'ha rubato. Qui a momenti si mu bello che in Francia. Oh, c'è più un palmoinetto, non c'è più. Oh, ne sono malato io a Mugosca. Ne sono malato. Tampi fa po', non era po' mica così, ne quantunque po'. Mio mondo di volte già chi si passa... Vai. Il n'y a pas un bon film ce soir? Mmh. Ah, tu te boudo ancora. Ma io solo complimenti alla serveuse, non c'è più grave, non? Non, ma tu devi non prendere ton corse, là, ce soir. sì. Non. D'accord. Aller. 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 Come si dice, j'ai un corse, un mariage. Castillo. Aller. 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 Passa le dare a due seconde a lo forte. Aller. Dimmi un numerico, 85... Non. Tra un' significantly. Ahè. все c'è la strigencia. Turquino, frate e azzai. Quattro azioni hai ne tatun lao, mica male. Deve studiogu no, je per i tchutch per imparare l'ecologia e se toucher lo erde per esempio hai salvato un arbru. Come quello che ta in e mani. Rengraziabili. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Grazie, grazie. Una settimana che aspetto. Chi è tu? Aspetto che te la hai. Andai qui. Cosa è? Qui c'è un speramelo. Speramelo. Si, c'è un melo qui, due bugilli così. E a tutti avrà la guine. E la melo è espirata. Oh beh, non è di mille, così la li vuol dire subito. No, ne mangiamo mica melo io. Ok. Posso dormire in cantina con tutti gli altri oggetti che non ci sono? Fa obbligare. Oh, Bibapelula, she's my baby. Oh, Bibapelula. Hai una brisa? Un brancadì qui. Un brancadì. Cos'è? Un posto? Oh, un posto. Qui è di una stazione meteo degli altri clienti. E per chi fa? Per chi fa? Dice il tempo che lo fai. Ah, e qui? Dice che il tempo è bello. Si è vero che il tempo è bello, no? Non c'è nessuno, no? Ma qui, vedi? Dice che il tempo è bello sino dopo un mone. Eh beh, si sbaglia, vedi. Si sbaglia. Si. Ehi. Un mo'inocchio mi vrige. E quel bollè qui da qui a poco ha da più. E tu? Boli barragona, dove non c'è un plastique e una stazione meteo d'un'écriti. E chi c'è il più forte? C'è il chocho. Oh, Bibapelula. SIGLA SIGLA Voila. Avec mes nouvelles balises GPS, là je peux suivre toutes mes chèvres et en temps réel. Fantastique hein. On n'arrête pas le progrès. Ah oui, et puis là je risque pas de les perdre. Non, 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 non. On le voit toutes. Alors c'est juste un truc un peu étrange, il y en a une qui est perdue là parce qu'elle est au bout du village, non? Ah non, ça c'est la balise de papa. Comment c'est la balise de papa? Tu as mis une balise à Orlando? Eh bien sûr. Attends, a son âge, non ha più il senso dell'orientazione io preferisco prevenire che guerire inoltre, 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 inoltre sì, ma proprio penso che c'è radione nel capitalismo e ruotica si è ascoltato di un sistema opputico che non lasciare la misera che provi tutto soli a Erick va beh, mi passerà il libro di Karl Merz Marx, ue truc a ua mi sento pronto a le diallo va beh, ti passerà quando non avremo finito a questa partita di Monopoli maintenant tu me donnes mes 8000 euro, s'il te plai mi che mostrando un mio paese Orlando, mi vuoi dire da vedetta? e ci sono? la giudaglia d'apposta non ti interessa mica a te qui ma strano Castellaccio, un paese, di cosa interessata? una d'amica da piacerti e perché? perché a chi fa giornare dei paesi ma dopo ce l'ha buttato allora, diè beh? eh, diè beh ma ce l'ha buttato per un bello paese di Cossio e io tu io è di giantista guarda che paese di Cossio a chi ti ha buttato tre volte e dopo una quartesima volta e te la avvo tu a chi ti ha buttato